Buonasera a te, Annalisa. Allora, devo dire che... Certo, ci saranno... Brava, brava, Annalisa. Perché tu hai mandato questo messaggio al quale ovviamente era troppo una tentazione non richiamarti, dove tu giustamente dici scusate però, dato che la notizia di partenza è una conseguenza di ciò che non si fa oggi, cioè si dice che fra nove mesi... Si ignora che ad esempio tantissimi paesi africani hanno una crescita del PIL a due cifre, cosa che noi ci sogniamo. Si ignora che esiste il 3G in molti paesi africani. Ed è un'industria cinematografica con un mercato molto... Tutto uno, e forse conoscerla meglio, indagarla meglio, permette anche di capire che quelle persone quando arrivano sui...